3.200 e passa firme e un comitato determinato a raggiungere lo scopo, fare un monumento ai carabinieri caduti in servizio. Dopo anni di impegno Guido Schiavo e gli amici di questa avventura hanno finalmente ricevuto il bozzetto dell'opera che l'artista Campano Domenico Sepe ha progettato per Voghera ed è scattata ufficialmente la raccolta fondi che non sarà probabilmente molto breve ma Guido ex carabiniere che molti conoscono in città come il nonno giardiniere nonostante i suoi 90 anni suonati non ci pensa nemmeno a darsi per vinto. Voglio ringraziare tutti coloro che per 5 anni mi hanno raccolto le firme hanno avuto pazienza di aspettare questo giorno che possiamo già notare questo permesso qui per questo monumento ai carabinieri caduti per servizio. Cosa ne dice del bozzetto quando è arrivato si è emozionato? Piace perché anche per ricordare questi eroi. Io sono un ex carabinieri ci ho perso due fratelli in questo sistema qui. L'impegno dei carabinieri non è cambiato in tutti questi anni anzi ancora oggi insomma difendono i più deboli. Sempre uguale. Da 46 quando mi sono arrollato e oggi sono sempre fedeli, si sacrificano pur di salvare una vita loro ci rimettono la loro. Basta che salvano una vita. Avete raccolto oltre 3.000 firme e ora si tratta di raccogliere un po' di fondi per andare a costruire. Ci devono dare i soldi a questa gente ma io non dei poveri. Dei poveri mi piace che mi danno anche quell'euro è giusto. E come si fa a donarvi a fare una donazione? Quello che voglio dire è una cosa di non dare soldi a nessuno perché sono capaci di infiltrarsi delle persone che raccogliano i soldi per i carabinieri perché non autorizzano quei centri che possono fare. Hanno il blocchetto fiscalmente e tutto sono autorizzato ma gente che vengono così in mezzo alla strada o con i negozi che raccogliano no. Poi mi possono telefonare. Loro hanno il mio numero di dappertutto.